Allora, riscaldarsi prima di suonare o fare stretching prima di un concerto è molto utile se vogliamo evitare danni fisici come ad esempio la tendinite. Allora, oggi sono qui con David per approfondire questo argomento. David è un personal trainer, nonché un batterista, e vi farà vedere qualche esercizio. Ciao a tutti ragazzi e amici batteristi, ringrazio prima di tutto Steve per l'invito. Facciamo una panoramica veloce sull'epicondilite che è un problema che si verifica sovente tra chi suona la batteria e anche tra chi pratica attività sportiva. L'epicondilite cos'è alla fine? È un'infiammazione del gruppo tendinio che unisce i muscoli dell'avambraccio all'epicondilo. L'epicondilo cos'è? È una tuberosità ossea che si pone all'estremità inferiore dell'omero. L'omero è l'osso qua del braccio. L'epicondilo lo troviamo qua, epicondilo laterale e mediale. Quando abbiamo l'informazione qua si chiama epicondilite, da questa parte laterale. All'interno è epitrocleite. Quindi cosa possiamo fare? Anzitutto verificare che si ha proprio un problema di epicondilite. Si verifica quando per esempio stringiamo un oggetto e ci fa male, quando apriamo una portiera, la maniglia, quando versiamo l'acqua nel bicchiere. Se sentiamo delle fitte, molto probabilmente è un problema di epicondilite. Quindi cosa possiamo fare in questi casi? Prima di tutto fare degli impacchi di ghiaccio, tipo di 15 minuti da ripetere 5-6 volte al giorno, per togliere il grosso di infiammazione. Se però è un problema abbastanza grave, dobbiamo rivolgerci a un professionista, a fare delle terapie di teca, ronde d'urto, queste cose qua. Però se è un problema abbastanza risolvibile da soli, possiamo fare anche qualcosa a casa, che vi consiglio appunto in questo video. Una pratica molto utile è quella di fare delle piccole manovre, alla sera ad esempio, dove andiamo a sciogliere i muscoli che vanno a inserirsi nell'epicondilo, con questa piccola manovra con le mani, giusto da sciogliere. Durerà circa 30 secondi, un minuto. Dopodiché, molto importante, fare dello stretching. Quindi, il stretching, se abbiamo un problema di epicondilite, in questo caso, scusa Steve, tieni la pallina, stretching, dove tiriamo indietro le dita in questa maniera, oppure, quello che piace a me, facciamo il pugno e con l'altra mano tiriamo indietro, in questa maniera, che stira molto bene i muscoli. Altro esercizio utile è prendere una pallina dentata, questa qua, che è molto diffusa nei negozi sportivi, e fare dei piccoli massaggi, in questa parte qua, che andiamo a liberare un po' di aderenze. Dopodiché, con questa pratica qua, io penso che in una settimana già il grosso dell'infermazione può passare, possiamo passare a un esercizio per curare e rinforzare il tendine. In questo caso, scusa Steve, ho qua un attrezzo. Noi siamo organizzati. Organizzatissimi Steve. Palline, attrezzi. Possiamo farlo anche in caso, un attrezzo del genere. O si ha un manubrio da palestra che si va a caricare solo da un'estremità, oppure basta anche un manico di scopa tagliato e dei piccoli dischetti da mezzo chilo. In questo caso abbiamo tre dischetti da mezzo chilo. Cosa faremo? Andremo a lavorare sul movimento eccentrico. Cos'è il movimento eccentrico? Il movimento in cui il muscolo si allunga. A differenza del movimento concentrico, il muscolo si accorcia. Noi dobbiamo lavorare sul movimento eccentrico. Quindi, nella fase di discesa, rallentare la discesa col peso, riportare il peso in verticale con l'altra mano. Quindi, evitare la fase concentrica che può andare a infiammare ulteriormente il tendine. Lavorando in questa maniera, quotidianamente, per un po' di giorni, vi posso garantire che rinforzerà il vostro tendine e piano piano farà passare questa maledetta epicondilite. Quindi, il risultato, potrete suonare tranquilli ed evitare ricadute che poi sono molto soventi con questo problema qua. Hai qualche esercizio da farci vedere, da fare, magari prima di suonare, prima di un concerto? Allora, prima di suonare un piccolo riscaldamento è sempre consigliato. Un riscaldamento veloce, ad esempio, possiamo cominciare dalle dita dei polsi, facendo questo movimento veloce, dove andiamo ad aprire bene la mano, chiudere e fare questi movimenti circolari, giusto per sciogliere bene. Tutti questi muscoli... Me fa cric trot. È un bel segno. Non è male, dai. Anche un mio amico, poi. Faremo una puntata sui rumorini che si sentono. Dopo questo, diciamo, un movimento per scalare bene, io farei sempre un movimento di allungamento, quindi per la parte laterale e per la parte mediale, in questa maniera qua. Non trascurerei, questo è importante da dire, la cervicale, perché molto spesso i problemi ai gomiti nascono anche dai problemi della cervicale, quindi rotazione del collo, destra e sinistra, chiudere in basso, in alto, dolcemente, e un piccolo allungo, da una parte e dall'altra, prima e dopo ogni concerto. Questo è molto importante, è molto trascurato, perché si pensa che poi i problemi ai gomiti si nascono solo da un problema qua, ma invece si sono collegati anche a un problema alla cervicale. Altro riscaldamento importante che si può fare per le gambe, il batterista usa molto le gambe, soprattutto se un batterista come Steve, che è molto bravo, lui usa la doppia cassa, quindi deve avere le gambe sciolte, e pronte, reattive, quindi allungare bene i polpacci, andare a prendere le dita dei piedi, fare quindi un piccolo stretching per le gambe è importante. Prima di suonare? Prima di suonare e anche dopo. Va bene. Prima di suonare, poi una preparazione anche per la schiena, un piccolo stretching per la schiena. Adesso magari ci fa vedere qualcosa. Ve lo faccio vedere, magari in piedi. Consigli per chi fa palestra, chi fa pesistica, di andare a caricare magari gambe o... Quindi riferito ai batteristi, diciamo. Riferito ai batteristi, certo. Per uno che suona la batteria. Consiglio personale, batterista che fa palestra, potete fare benissimo palestra come mi piace, anche bodybuilding. Mio personale consiglio, se avete un concerto, il sabato, magari il sabato o il venerdì, evitate di fare gambe pesanti, perché non è il massimo, puoi andare a suonare la batteria, soprattutto se fate un genere come Steve, con l'uso della doppia cassa, se avete le gambe imballate, perché avete poca sensibilità, poca dimestichezza con i movimenti, dovete essere sciolti. Il motivo perché io sono... Ho questo fisico. Fisico asciutto, gli Steve va benissimo, poi lo metteremo sotto il torchio, lo faremo diventare un pochettino più prestante, ma va bene così lui. Un'altra zona poi molto delicata per il batterista è la schiena, perché poi se suoniamo due più ore la batteria, è un classico che poi senti sempre la parte, la zona lombare dolorante. Qui la postura devo dire che fa la differenza ragazzi, perché avere una buona postura sullo sgabello fa la differenza e magari... È molto importante. Esatto. L'importante è trascurata, perché poi se si prende una brutta abitudine nel suonare la batteria con delle posture errate, poi si pagano le conseguenze. Quindi tu cosa consigli come postura? Guarda, l'ideale sarebbe evitare di suonare la batteria con il ginocchio così in linea o leggermente più alto del bacino, bravissimo. Perché in questa maniera andiamo a sovraccaricare un po' troppo la zona lombare. L'ideale sarebbe sedersi e avere il ginocchio leggermente inferiore al bacino. In questo modo la schiena soffre di meno e possiamo evitare problemi anche in futuro. E pensare che ci sono batteristi come anche Tommy Lee. Tommy Lee usa... Tommy Lee, bravissimo, suona basso, è vero. Tommy Lee è basso. Adesso mi ha fatto venire in mente Tommy Lee che suona basso. Perché lui, ragazzi, è anche lui un rockettaro. Ragazzi, io sono cresciuto con Tommy Lee, Motel Crew, Guns, Poison, quindi... Non è che ho fatto venire un personal trainer qualunque qua. Ragazzi, qui c'è cultura musicale, tra me e lui. È chiaro, ragazzi. Comunque, Tommy Lee, Nico McBrain, se non sbaglio, anche Scott Travis. Anche Nico McBrain, è vero. Ricordando certi video, anche lui sta con le ginocchia molto alte. Quindi questi, io sono miracolati oppure hanno mali di schiena tutti i giorni. Perché se no è impossibile. Ragazzi, adesso, parlando così, mi ha fatto venire in mente Dennis Chambers, batterista di Phil Collins. Guarda, mi è venuto in mente adesso. Lui ha avuto grossi problemi con la schiena negli ultimi anni. Infatti, mi ricordo che aveva parlato in un articolo su un giornale che ha dovuto rivoluzionare il suo stile di batterista. È vero. Mi ricordo perché ho fatto una masterclass con lui a ottobre. Sì? Sì, a Milano. Caspi. E diceva infatti che una cosa tipo poi dopo quando superi i 50, una cosa del genere, poi dopo devi rivoluzionare un po' tutto. Infatti, infatti. Io mi ricordo che avevo letto un'intervista di Dennis dove diceva appunto che lui aveva cambiato tutto il modo di suonare la batteria. Stava molto più alto sullo sgabello in modo da caricare meno la schiena. Però questo gli ha comportato praticamente a iniziare quasi da zero a suonare. Perché poi, tu lo sai benissimo, il batterista poi va... Non è che pensa cosa suona. No, chiaro. È un movimento naturale che hai dentro. Poi se devi cambiare postura, posizionare lo sgabello... È un'avitudine che porti avanti col tempo. È come guidare la macchina in un modo in Europa e poi vai in Inghilterra e ti trovi a guidare a destra. Però lì ti dimostra il fatto che se hai una postura sbagliata rischi di provocarti dei problemi nella schiena che poi, logicamente, dopo una certa età escono fuori. E lì sono problemi. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa, però se la trascuriamo poi non ci permette di fare cose molto piacevoli come suonare la batteria. E quindi adesso magari facciamo una piccola panoramica su due esercizi di stretching per la schiena che vi mostrerò in piedi. Primo possiamo usare lo sgabbello della batteria. Una gamba alla volta, la mettiamo su e andiamo a spingere bene il ginocchio e il petto in avanti. In questo modo sentiamo allungare la schiena e anche dietro nella zona dei femorali. Questo è buono per allungare anche bene i glutei che sono quelli che soffrono anche per il batterista. Secondo esercizio, usiamo sempre lo sgabbello. Mettiamo la gamba distesa in questa maniera e spingiamo avanti il petto. Andiamo ad allungare anche qua la zona posteriore della gamba che è importante, che soffre tantissimo quando suoniamo tante ore la batteria e anche la schiena. 30 secondi, un minuto per questa gamba qua 30 secondi, un minuto per l'altra e direi che per il concerto siete pronti. Se volete avere informazioni sui corsi di debito o volete contattarlo, dove possono trovarti? Allora, canali social, quelli che vanno oggi di moda Facebook, Instagram, basta che cercate il nome del mio brand mi trovate, ci sono tutti i miei contatti telefonici, email, potete chiedermi consigli. Io sono un tuo follower. Bravo, seguimi sempre, io seguo te così ascolto buona musica e mi fai scoprire un po' di tecniche di batteria che ormai io... ciao. Va bene, allora, ciao David, ci vediamo Ciao Steve, grazie per l'invito, alla prossima. Se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi di seguire il mio canale per vedere i prossimi video. Un saluto a tutti voi e ricordatevi, batteristi, seguite Steve perché lui è molto bravo, molto competente e vi può insegnare tante cose nuove. Grazie David. Ciao Steve. Ciao ragazzi. Ciao.